Benvenuti ad Alfaim signori, aria scoperta, ponte di tiro Sicuramente qualcosa che si rompe Leggi Garo C'è uno spettro, c'è uno che vola Uccidono ancora gli alpi chiari? È la guerra, ed è finita, i chiari hanno perso Ecco, scura Occhio No, stavo a fare l'attacco potente Osti alfi sono maledetti Perché ci attaccano? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre Da dove viene questa roba? Devo farne due insieme? Sì Hai detto qualcosa? Sì, cassa ho detto Almeno ci stiamo avvicinando alla luce Aspetta, non è Sidri Quando la bussola diventa quello loro significa che c'è un obiettivo nei paraggi Ispezione alla zona in cerca di indizi Libera la barca Ok Lo facciamo di qua Allineati Tac Fatto un po' a caso, sinceramente Però L'importante è potenziarci Il ragazzino ogni tanto fa Cosa hai detto? Vuole parlare col babbo Vuole parlare col babbo Vuole comunicare con il babbo Tua madre parlava di Questo regno Non molto Solo che gli elfi combattevano per la luce E stavano isolati Cosa ho preso? Oggetto epico Una bevanda ottenuta dalla ruggiata dell'albero del mondo Aumenta Di due La ricarica In modo Permanente Aridaie Ah ma è pazzo Adesso si ho capito È pazzo lui È pazzo Se ne stanno andando Sentivo delle urla Tante voci Arrabbiate E tu Non le sentivi? No Erano Malvagi A me A Kratos in primo piano Regà è spaventoso comunque Cioè nel senso È fatto benissimo Ciao Elios Grazie come sempre Buonanotte Comunque raga Cioè La mole di lavoro Che c'è dietro questo gioco È incredibile Veramente incredibile Un botto Un botto Un botto Di rob Lago di luce ragazzi Peccato Gli elfi Non vanno d'accordo Alfaim è un posto così bello Ma La guerra Lo rende brutto Basta Anche ad Alfaim Hanno le vasche di sabbia Cosa chiede? Senza di me O dentro di me La morte È sicura Ma dentro di te Io sono la vita Più pura Ma Non vedo rune Nei paraggi Cerchiamola Torniamo alla barca Cerchiamola Torniamo alla barca Se lo dice Se lo dice Kratos E se lo dice così Dunque Direi Di andare Lì vicino Vediamo un po' Che aria tira La guerra La porta blu Deve essere questo L'ingresso Andiamo Sta attento Che fanno? Il ponte è sparito Hanno coperto il cristallo Con quello Perché? Per impedire i rinforzi Andiamo No Stavo facendo Oh Gli elfi sono Veramente Sì Atenzione! BOOM! BOOM! Alcuni attacchi sono... ...veramente brutali. Fico. Bene, allora, qui c'è da fare qualcosa, vediamo un po'. Oh! Bene, qualcosa è accaduto. Ciao Benni, buonasera, come stai? Il gioco mi sembra bello. Fino ad adesso mi sembra molto bello. Sembrano una specie di luna. Ma non ha senso. Vieni, alla vasca di sabbia. Quindi abbiamo detto che di qua noi non possiamo passare. Torniamo alla vaschetta di sabbia. Aridaglie! E dai! E dai, su, l'hai detto tre volte. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Tracciala. Aridaglie! Porello, che c'ha sto bimbo? Eh... Erano di nuovo le voci. Ma... Erano voci diverse. Meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. No. Che brutto rapporto che hanno questi due. Che succede? Wow! Guarda qua! Siamo arrivati, nel frattempo, al fossato del Tempio ad anelli. Ma è diverso. Guarda quelle corde. Tu va dietro di me e buttando. Questo è uno tosto, mi sa. Non è un buon segno. Attento, padre! Nessuno lascia un po' di vita per terra? Mi servirebbe della vita. Mamma mia! Mamma mia! Nessuno ha droppato della vita. Va bene. Riattiva il ponte del Tempio ad anelli. Va bene. Allora. Vediamo un po' di qua. Sta lontano dalle gabbie. Chissà perché sono riuscito. Devo fare così. Poi velocissimo. Tac. Cassa d'oro. Un po' stanco. Eh beh. Sono... Sono anche le undici e mezza di sera. Un attacco vendente che scaglia una piccola donda d'urto verticale che infligge danni da gelo medi. Visualizzano il menu. Allora, noi adesso abbiamo questo. E fa questo. Questo qui fa... Opla. Lì ne vedo uno. Vediamo un po' che fase al giro sta roba. Allora, qui ce n'è una. Opla. Difficile. Davvero. Eh, tosta. Allora, fammi guardare un attimo prima dove... Se ce ne sono altre in giro. Allora, ce n'è una qui. Poi. Oh. Altre lì? Per caso? No. Direi di no. Questa roba qui ti spacca il cervello, eh. Ah, perché vedi, mi posso anche fermare a metà. Ah, eccola lì. Là c'è una R. Eh. E come faccio? Così. Facile. E l'altro di qua? Se lo spacco a pugni? Ah, ma si può spaccare anche a pugni. Ma va, va. Eccoci qua. Tac. Quella di prima ce la siamo persa. Questa no, dai. Era giusto aprirla. Ogni tanto una cassa va aperta. Oggetto leggendario. Hai raccolto due delle tre mele. Ok. Buono. C'è rimasta quella cassa lì sopra che... Può anche rimanere lì. Andiamo avanti. Sono uscito, mi sono visto con la sciura. Qualche episodio della casa di carta. Bene. Qui sta. Io sono sempre fermo alla quarta puntata con la casa di carta. E invece la prende. Vedi? C'era un'armatura del braccio. Armatura a braccia. Runico difesa. Beh. Beh. Non so male sti qua, eh. Diminuisco di sei ma aumento di sette. Runico a otto. Che dite? Potrebbe essere interessante. Ha giudicato. Adesso. Proseguiamo. Oh. Ragazzo. Oh. 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 Sfaccodutto Gratos. Oh, che badannina! Sfaccadutto Gratos. Tieni duro Che sta facendo? È impazzito? La libello la scappa Ah, scappato No, dai, l'avevo preso Grazie Eh, grazie, figlio mio Dovere Acquista un ptd out usando exp Eh, sì, lo so Posso già farlo? No, direi di no Boss, 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 boss Merda, regà, questo mi sfonda Ok, non gli faccio nulla Eccolo lì, già ho capito Già to' un quadrato Usiamolo contro di lui Usiamolo contro di lui Ah, li tiro Adesso li tiro questo dentro Bello Gli faccio un sacco di danno Vai a R3, vai a R3 Spaccalo, Kratos Spaccalo Eh, sì, sì, sì Ho sbagliato Dai che ce l'ho carica Ma zitta Apri sta pancia Apri da E' un lì Come on Vedo roba viola Bello il drop Mi piace, regà Mi fa sentire un po' a casa Il fatto che ci sia il drop Cuore spezzato Oggetto raro Incantesimo Riduce del 12% Tutti i danni inferti Dagli elfi scuri Si accumula fino al 36% Buono L'hanno coperto con quella roba Ma perché? Guarda Un elfo chiaro Cosa sta facendo? Oh no Perché lo uccidono? Non ha fatto niente di male Non giudicare Stai assistendo alla fine della guerra Non sai cosa abbia condotto a questo Ma non si è nemmeno difeso E' stata la sua scelta A noi la nostra Mazzagratos proprio eh Devo usare di più la tecnica In lontananza Perché paga No E' vaffanculo Mamma mia Decapitato La luce è vicina Cerca il modo di entrare La potevo usare Vedi? La potevo usare E' linguaggio E' vero Chiedo veni Ha funzionato Altri ponti di luce Yes Seguimi Andiamo figliolo Figliolo andiamo Non credo che dovremmo essere qui Taci Grande Kratos Non dovremmo essere qui Taci Zitto Hai sentito? Sta allerta È vicino a me Ehi Quando raggiungeremo la luce Come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare Quando? Quando è scomparsa da questo regno Oh E non l'ho sentita Pensavi più alla sua incolumità Che al nostro scopo Oh 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 Tranquillo L'ho bloccato Usa il pugnale Mamma mia Figlio di Kratos Giustamente è crudele e brutale Quanto Crudele e brutale Spietato Quanto Kratos Ci è mancato poco Non allontanarti da me Non devi dirlo Oh È Appiccicoso Khinanuna 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 Sta indietro Occhio Occhio La luce Sì Siamo vicini alla meta Ma dobbiamo essere cauti Hai capito? Cosa sono quelle? Blatte? Oh Cristo Dio Che schifo Io c'ho una fobbia Per le cose che volano Cosa sono? Ah no ma sono tipo loro Ok Schifo Lì Quando cadrà Sei pronto Dobbiamo agire in fretta Ok Salta ora Ok Attento Arrivano Stammi dietro E sto per il fianco D'accordo Ci penso io Regà One shot Tutti quanti Continua a tirare Io sgombro la strada Dai che tra un po' C'ho di nuovo la super No 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 Arrivo Ah Uh Ah Uh Peccato averla sprecata Vabbè Ci stava però Ero quasi arrivato Beh Ciao Gian Mario Non ti preoccupare Non ti preoccupare Lo so Siamo contro gli spoiler Quindi se te lo vuoi giocare È giusto che non mi segui Ti sei fatto male Sto bene Sto bene Wow È bellissimo Abbiamo liberato la luce La luce Fa riapparire il tempio È la fonte di tutto quanto Ciao Chiara Buonanotte Sta Sta cantando Sento La sua voce Te l'avevo detto che era lei Pensi che sia lì dentro Quanto fa male Sembrava che la mano andasse a fuoco Che fai Entri tu Kratos Da solo Gli lascia la ascia Mamma mia Mamma mia Cercchio 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 Ok penso che non doveva andare così Per ricaricare il coso qui Come si chiama il No 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 Prendilo Ah È la moglie È la moglie Raga Momento toccante Aspetta aspetta Silenzio Atreus Solo con lui Lui se ne va sempre Non è mai qui Non mi vuole E non mi vorrà mai Sto seguendo la luce Ah siamo tornati a casa Io non lo conosco E lui non mi conosce Non sembra interessato Io sono forte Sono intelligente Non sono come pensa lui Dove siamo? Su una nave Lui non mi parla Lui non mi insegna niente Doveva morire lui Mi senti? Lui non te Ma Non dico sul serio Sai che gli voglio bene Vorrei solo che fosse migliore So che potrebbe Se ci proverà Io ci potrei Una specie di sogno Ti prego torna Lo so che ci sei So dove siamo? Aspetta Torna da noi No No Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato Tu eri intrappolato Ti ho aspettato tanto Ma tu non uscivi più Allora ti ho tirato fuori Ragazzo Sono stato via a pochi Momenti No Sei stato via per tanto Tanto tempo Io non sapevo cosa fare Mi hai lasciato solo Di nuovo Di me non ti importa Io Ma è impossibile Hai capito Hai capito Spero tu abbia ciò che volevi Beh Sembra che si sia preso una vacanza Ma non c'è luce per creare un ponte Siamo in trappola E la corda della strega è in uso Ragazzo L'arco Eh si eh Usiamo l'arco Ormai abbiamo Siamo pieni di luce Pieni di luce Guarda che roba Hai ottenuto le frecce di luce Tirale ai cristalli di luce Per infonderli Con la luce di Alfie Ok Ah lo comando io In poche parole Presurto Scocca la freccia sulla roccia Funziona Ora possiamo tornare indietro Vieni Oh abbiamo felici Abbiamo fatto felici gli elfi bianchi Guardate che figata E vorrà combattere Vorrà combattere Odio quel tizio Lui tornerà Lui tornerà dice Dove vai? Vedi qua Dobbiamo per forza scendere di nuovo Vedi forse un altro modo? No Allora Ben arrivata C'era una porta comunque Una semplice porta Grazie 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 mille C'è luce Accontentati Dai Uzzitile ragazzo Dai Stordiscila ragazzo Stordiscila Ti stavo per fare Quella pesante Ste maliarde So le peggio Le odio proprio Che urto Che urto Ti seguo da tempo su youtube Per The Division Ma ora che ho il pc Completo e funzionante Finalmente posso seguirti meglio Mi sono abbonato Grazie a te Ma grazie a te Grazie a te Per me è un piacere Grazie mille Oh vita 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 Eccolo di nuovo lui E' il momento di combattere Perfetto Che tu sia maledetto Che tu sia maledetto Ah questo lo senti Ah questo lo senti Attenzione Ho trovato forse qualcosa Che gli dà fastidio E' método Questa è la L'ho incastrato, l'ho incastrato, l'ho incastrato Dove sei? No, ma cos'è sta bombetta che rilascia? Mi serve vita Mi serve vita Ok, ho riperso subito Dove sei? Ok, fatti vedere No, ma cos'è? No, ma cos'è? Ma che maledetto che si lancia ste bombette dietro, no? Non so neanche se l'ho preso, probabilmente no. Oh, ma che sei matto! Gli faccio la super, appena lo vedo. Dai, 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 dai. No, 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 no. E' morto, e' morto, uccidilo, Kratos, uccidilo. Così. Dai, non so che cosa sta dicendo, ma... Ah, madonna, regà. Evoca lo spettro di un lupo che attacca tre volte i nemici. Ti detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Possiamo andare ora. Ti ricordi la risposta? Sì, certo. Bella cosa, ma... Sicuro ha detto quello. Sicuro, dopo che gli ho piazzato la lancia in petto. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dici? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Torno al tempio. Ok. Bene, ragazzi. Allora, la strada è spianata. Da qui in poi si torna al tempio, in teoria, con la chiave carica. Dovremmo essere in grado di tornare indietro e aprire la strada verso un altro regno. Ma, ma, si è fatta decisamente una certa. Quindi io vi rimando a domani. Spero domani.